Ciao, sono Federico Rasetti, direttore di Keep On Live, l'associazione italiana di club e festival di musica dal vivo originale. Siamo qui per Reveland, occupandoci della comunicazione di questo progetto europeo e anche come festival, come meeting, perché appunto coglieremo uno degli show esperienziali, di questi live show, che si creeranno durante questo percorso europeo di due anni. Le nostre aspettative sono sicuramente quelle di avere un impatto sperabilmente durevole nella music industria italiana, nello specifico per quanto riguarda i live, sul creare appunto degli show, degli eventi più inclusivi e accessibili in realtà per tutti, partendo dalle comunità chiaramente di disabili. Ci aspettiamo anche di fare molto networking e quindi di portare a sistema, di fare una sorta di scala su altri progetti che riguardano l'inclusività, la diversity e la gender equality a livello europeo, collaborando con i vari partner del progetto.